Direttamente da Canelli con una signora che segue il vino e soprattutto è premiata per una Barbera. Una Barbera, una Barbera d'Asti 2013, Torlasco, che ci inorgogisce particolarmente perché abbiamo iniziato questa produzione circa dieci anni fa per i nostri amici e la nostra famiglia e finalmente siamo riusciti a raggiungere questo grandissimo premio che ci rende veramente fieri del nostro territorio, della tradizione perché noi dal 1820 produciamo vini e spumanti con tanto orgoglio e per la nostra famiglia che è da sette generazioni alla guida di questa azienda. Noi produciamo bollicine, soprattutto Moscato di Asti, abbiamo 650 ettari che governiamo con 500 famiglie e siamo assolutamente radicati in questo fantastico territorio e cerchiamo di servire più clienti in tutto il mondo. Grazie. Grazie.